Nella chiesa della Madonna delle Grazie e Santa Tecla a Palazzo di Assisi, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Don Jean-Claude Azoumé nella solennità del Corpus Domini, un fratello ha ricevuto, con cerimonia solenne, il Ministero dell'Accolitato. Al termine del rito di istituzione, il candidato ha ricevuto un vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia.